Sapponi, creme per il viso, shampoo, profumi, deodoranti, trucco per occhi, rossetto, tinte per capelli, creme depilatoria, dentifrici, prodotti per i capelli, schiume da barba. Ogni giorno ognuno di noi usa almeno 6 o 7 cosmetici. L'abuso o l'utilizzo scorretto di questi prodotti possono essere dannosi per la salute. Scopri come usarli senza rischi sul sito www.regione.piemonte.it slash sanità. Se giocate con la bellezza, vi giocate la salute. Campagna di comunicazione della Regione Piemonte finanziata dal Ministero della Salute.